Buongiorno! Eh, buongiorno! Che gli è successo a voi? Ha fatto soldi? Ma quali soldi? E' che la miseria vuole sfogli! Ripaggiamo il canto e la camicia novano! Ma, ordiniamo dei piatti rossi! Nardu, il vino bonus viene senza frasca! Due piatti rossi! Va bene! Sì! 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 Mi pare che chi ti dice che hai una mano lunga e una corta! L'uomo è la tua pensi! Come fai a cucciare i pensi? Avanti quanti sono? Eh! Sì! 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 Ma basta! Non sai se finisce! Eh beh! E' un bel! E' un bel! E' un bel! Un bel! Un bel! Sì, via!